da bambino volevo fare l'attore e mi piaceva tanto fare lo sceriffo quando con i compagni giocavo ai cowboys poi il destino ha scelto per me un'altra strada il governatore della campagna ma visto che la passione per la recitazione è rimasta preferisco farmi chiamare governatore nel prossimo video reciterò celebri battute del grande Clint Eastwood tratte dal film per un pugno di dollari avrei pagato qualunque cifra per avere il poncio di Clint Eastwood ma il grande Ennio Morricone buonanima alla mia richiesta rispose mia moglie Maria voleva usare il poncio come canavaccio da cucina io l'ho nascosto così bene che ora non mi ricordo dove si trova penso che ingaggerò Harrison Ford nei panni di Indiana Jones per ritrovare questo prezioso e mitico oggetto cinematografico qui